bella a tutti ragazzi sono tabf e benvenuti nel mio primo video tutorial voglio dirvi che siamo in webcam funziona è a posto e voglio anche dirvi che il mine combat il server di luke 43 16 il server di minecraft è stato rivoluzionato da cima a fondo perché perché è un net più trattato sulla vanilla ma bensì sulla tauny che cos'è la tauny la tauny ci permette di far parte di una nazione e di un paese e in più per fare parte di una nazione di un paese bisogna pagare le tasse ragazzi è una cosa fantastica perché ci rende molto più liberi ci coinvolge molto di più nel gioco anche perché dovremo collaborare con i nostri cittadini con i nostri conquilini come volete chiamarli voi comunque con i nostri alleati per riuscire a sconfiggere le altre nazioni se si vogliono sconfiggere e se si vuole andare in guerra detto questo ragazzi vi chiederete perché le skin di minecraft basta andare sul sito e le cambi no no ragazzi non funziona così è molto semplice non preoccupatevi vi farò subito vedere come fare passo per passo quindi guardiamoci il video perfetto ragazzi eccoci qua non preoccupatevi vi lascerò il link in descrizione su come raggiungere il sito per poter modificare la vostra skin quindi state boni state garmi che avrete tutto quello che vi serve per riuscirci allora sulla sinistra ragazzi abbiamo delle skin già fatte da altre persone mentre qua sotto abbiamo il nostro menu dove possiamo scegliere il colore che vogliamo per modificare la nostra skin io ho preso una skin a caso ho preso questa qua però ragazzi magari ne scegliamo un'altra che così voglio farvi vedere una cosa scegliamo 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 questa scegliamo questa skin qua bella pulita nemmeno senza l'ombreggiatura dopo vi farò vedere le altre skin con più particolari comunque ragazzi passiamo alle cose serie non ci piace la maglietta blu noi andiamo qua sotto selezioniamo il blu no perché non ci piace quindi il blu non lo prendiamo ci piace il rosso perfetto allora scegliamo il rosso e piano piano con pazienza tranquillità coloriamo la nostra skin un vantaggio che ci dà questo sito è che se noi coloriamo coloriamo il nostro braccio destro in in contemporanea si colora anche il braccio sinistro nice perfetto e fino a qui ci siamo vabbè ragazzi io non è a posto bellissima stupenda nuova maglietta dell'estate allora questa qui ragazzi come potete vedere è la skin proprio liscia senza nemmeno ombreggiature senza nessun particolare se invece volete qualcosa di più serio magari non so vi scegliete una skin con magari qualcosina che vi possa piacere e poi la modificate voi ad esempio vediamo io scelgo io scelgo babbo no scelgo lui ecco scelgo lui che ha già qualche particolare in più come potete vedere ovviamente questi particolari ragazzi sono fatti a mano per ottenere una cosa del genere bisogna avere pazienza a modificare la vostra tavola dei colori e avere pazienza e riuscire a capire bene dove vanno le ombreggiature e dove vanno i colori più chiari per ottenere un qualcosa di simile ci basta spuntare questa casellina qua e in automatico lui ci farà l'ombreggiatura adesso vi faccio vedere ho colorato un dito vabbè si fa lo smalto come potete vedere ragazzi qua è già ombreggiato lui ci fa l'ombreggiatura in automatico è una cosa veramente veramente bella perché ci aiuta ci aiuta ovviamente come vi ho detto prima se volete qualcosa di veramente fatto bene dovete scegliervi voi i colori e ombreggiare a mano perfetto se invece noi ragazzi vogliamo modificare ogni singola parte qua sotto abbiamo uno schemino degli schemini spuntati dei quadratini spuntati ok quelli spuntati sono quelli che sono visibili quindi se invece noi togliamo il lo spunto il visto da quello sopra la testa come potete vedere sparisce la visiera del cappello invece se noi zighete 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 sparisce anche il ciuffo wow sparisce anche il ciuffo sì tutti gli elementi che sono in evidenza in rilievo spariscono se invece noi vogliamo modificarlo ci basta spuntarlo noi non vogliamo la visiera così vogliamo di un altro colore guarda il fatto è che possiamo passarci sopra direttamente però possiamo cancellarla e poi rifarla noi a mano sì io faccio schif non sapete quanto ci ho messo a fare la mia skin e non ve lo dirò mai perché infatti ci ho messo tre giorni ok perfetto ora che non ve l'ho detto possiamo non so magari gli facciamo il il bottone che c'è sopra è stupendo carino molto carino molto simpatico ragazzi se invece vogliamo modificare soltanto la parte sotto ci basta togliere lo spunto da questa casellina qua se vogliamo modificare invece altri particolari singolarmente basta togliere lo spunto alle altre caselle e vedremo soltanto l'oggetto o meglio il pezzo che noi vogliamo modificare l'unico pezzo che vogliamo modificare senza avere di intralcio le altre parti una volta che siamo contenti di quello che abbiamo fatto ragazzi non ci resta che andare su oh mio dio non lì si vede la testa non ci resta che andare su salva salviamo il nostro il nostro personaggio e andiamo sul sito eden network non preoccupatevi ragazzi vi lascerò il anche questo sito in descrizione anche perché per riuscire ad entrare nel main combat dovete registrarvi qua e scaricare il nostro launcher direttamente dal sito quindi entriamo ci troveremo davanti a questa pagina qua e noi andiamo sotto gestione personaggi scegliamo il nostro personaggio andiamo sotto browser e scegliamo l'immagine che abbiamo appena salvata abbiamo appena salvato scusate l'apriremo andremo sotto salva e in automatico lui ci salverà la skin una volta che entreremo nel nel main combat avremo la nostra skin salvata ragazzi è semplicissimo in più il sito di prima vi permetterà di esprimere la vostra fantasia di creare una propria skin personalizzata io spero che questo tutorial vi sia stato utile se avete bisogno commentate non preoccupatevi risponderò cercherò di rispondere a tutti quindi ragazzi da tabf tutto ciao ragazzi